Il Comune Costiero di Giulianova è stato messo sotto monitoraggio intensivo della Regione Abruzzo, l'unico del terramano menzionato tra i comuni a rischio nell'ordinanza firmata ieri dal Presidente Marco Marsilio. Nell'ordinanza si dà mandato alla ASL territorialmente competente di avvisare tempestivamente il Dipartimento Sanità della Regione sugli esiti del monitoraggio o qualora in parametri suggeriscono ulteriori restrizioni. Non per i casi, noi abbiamo 296 persone positive con un RT vicino all'1.1%, quindi non è per i casi, è perché sono state isolate due tamponi con la variante inglese e quindi abbiamo concordato nella serata di ieri che era il caso di fare ulteriori screening per arginare questa variante che sapete è molto più aggressiva rispetto alle altre. Quindi dopo una nottata passata al telefono per comprendere perché anche noi siamo stati assolutamente spiazzati perché non avevamo compreso, visto che l'RT era assolutamente in linea con quello dei comuni limitrofi, anzi in qualche caso anche migliore, l'Istituto Zooprofilattico ci ha comunicato che nei due tamponi che avevano fatto presso il drive test di Tortoreto nella giornata di martedì scorso e di venerdì scorso si sono riscontrati due tamponi con variante inglese e quindi siamo in monitoraggio ma vi dico che stamane il Presidente Massilio ci ha informato che andremo in zona arancione rapidamente perché l'RT è abbondantemente sopra l'1%.